Dramma questa mattina sull'Ofantina 2, le persone decedute in seguito a un violento incidente. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30 all'altezza di un distributore di benzina di Chiusano San Domenico. Il conducente dell'auto, Benedetto Fino, di 41 anni, di Cassano Irpino, si è scontrato con un trattore guidato da un 82enne Raffaele Ferullo di Parolise. L'uomo alla guida della vettura è morto sul colpo, mentre l'anziano si è spento poco dopo in ospedale. Due comunità sotto sciocco, il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, conosceva bene Benedetto, per tutti Giuseppe. Lui era originario di Bonito e aveva deciso di comprare una casa nel comune Altirpino, dove solo tre giorni fa si era trasferito. Era una persona davvero eccezionale, davvero amata da tutti. Era un padre esemplare e un grandissimo lavoratore. Era una persona apprezzata per la sua serietà, per la sua correttezza, per la sua voglia di mettersi a disposizione. Una persona davvero amata da tutto il paese. Lascia la moglie e due ragazzi, di cui uno ancora adolescente. La nostra comunità, la comunità di Cassano, sono certo che saprà stringersi alla famiglia, come sempre fa nei momenti di difficoltà, per qualunque membro della nostra collettività.